Cari amiche e cari amici di Barba Sofia, alcune riflessioni sulle convocazioni per gli europei di calcio operate da Luciano Spalletti, l'allenatore appunto della Nazionale di Calcio Maschile. Ma come direte voi? Adesso Matteo trasformi il tuo canale in un canale di opinioni sul calcio, a parte il fatto che ogni tanto di calcio parlo anche sul mio canale perché penso che il calcio sia comunque un fenomeno di massa che merita di essere indagato, si possono trarre molte riflessioni politiche, sociali, antropologiche, filosofiche dal mondo del calcio. Poi vi ricordo porto in giro uno spettacolo dal titolo non di regatto fenomeno del calcio, ma a parte questo no, non voglio trasformare il mio canale in un canale di calcio ma voglio fare alcune riflessioni sul caso Fagioli perché questo caso si presta veramente ad alcune, a mio avviso, proprio ad alcuni ragionamenti. Fagioli è il giocatore della Juve che la scorsa estate è stato squalificato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio per aver scommesso su partiti di calcio. Oltre a Fagioli altri giocatori sono stati appunto squalificati. Per tutti questi mesi dunque il giocatore che ha ricevuto anche il rinnovo contrattuale da parte del suo club da Juventus si è allenato ma non ha giocato delle partite ufficiali. È entrato in campo la scorsa settimana appunto in Bologna Juve al termine appunto della squalifica, dunque ha scontato la sua pena. La ludopatia è ovviamente un problema molto molto pesante, radicato in molte persone. Fa scalpore quando sono magari i personaggi famosi a cadere nella ludopatia e dunque emerge il caso di persone che hanno scommesso e che magari hanno perso milioni di euro. Però pensate ai danni che la ludopatia provoca nelle persone normali o spesso anche nelle persone marginali che investono, sprecono, buttano quei loro soldi in scommesse, in gratte vinci, nella speranza di una vita migliore o proprio perché entro in un meccanismo di dipendenza. E dunque è un problema la ludopatia. Però quello che mi ha stupito non è tanto il tema della ludopatia di cui non sono esperto e dunque non parlo, ma mi ha stupito il fatto che la convocazione di Spalletti sta contestata da molti, da molti sui social ma anche da molti opinionisti, sui giornali, sulle televisioni. Non tanto da un punto di vista tecnico, a parte che toccherà a Spalletti decidere se Fagioli è tecnicamente valido, se funzionale al suo modulo, se serve dunque, se è pronto, se è preparato. Si tratta di pre-convocazioni. Alcuni giocatori rimarranno comunque a casa, non andranno a disputare i mondiali, gli europei, gli europei di calcio. A parte appunto le opinioni che possiamo esprimere, no? Fagioli non va bene, non è adatto, c'erano giocatori migliori, c'erano giocatori più forti, lo sappiamo, siamo tutti commissari tecnici, amiamo comunque giocare ed esprimere le nostre opinioni su moduli calcistici, su appunto prestazioni, su come far giocare o non far giocare una squadra, su chi sostituire, no? Mazzola, Rivera, andiamo avanti appunto nel tempo, far giocare Baggio oppure no, convocarlo oppure no. Da sempre gli italiani su questo giocano, si divertono, a volte lo fanno anche in maniera magari stupida, rozza, non lo so. Ma non è anche questo l'argomento che voglio trattare, ma ognuno può essere appunto libero e deve essere libero di esprimere opinioni su chi convocare o meno, sono opinioni. Ma quando si dice invece non dovrà convocarlo perché è un cattivo esempio, perché ha scommesso, ha giocato, ecco qua, si è sempre libero chiaramente di esprimere questa opinione, ma non sono d'accordo proprio su questo approccio, per almeno due motivi. Il primo è che i calciatori, così come i cantanti, così come non so, gli attori debbono proprio essere un modello, lo diventano, certo non mi puoi dire, lo diventano, lo diventano per i giovani, lo diventano per gli adulti, molti sportivi sono modello di impegno, molti sportivi hanno virtù etiche, politiche, molti cantanti si dimostrano attenti alla loro città, a tematiche appunto politiche, sociali, si impegnano, così lo fanno attori, però io continuo a dire non è proprio la prima cosa che deve fare un cantante, che deve fare un attore, poi se ha delle virtù etiche, politiche, sociali, morali, benvenga, però potremmo anche lavorare su altri modelli, no? I primi devono essere dei modelli, dovrebbero essere i politici, ovviamente gli insegnanti, i genitori, sono tutti ruoli in cui è richiesta ovviamente una forza anche morale, etica, politica, non è così richiesta un calciatore, dunque io eviterei anche di ripetere sempre modelli, 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 un calciatore deve essere rispettoso delle regole, se non le rispetti sarai squalificato, sarai sanzionato, ma poi deve giocare bene a calcio, un po' il vecchio, anche il mio tema sui concorsi di bellezza maschili o femminili, non siamo più nella Grecia dove devono anche emergere i valori morali, ma anche là vincevoli più belli, molto sommato chiedere a modelli, a modelli, a concorrenti di gara di bellezza di esprimere virtù morali, etiche, virtù appunto sociali, parlare di pace, carità, solidarietà, di bontà, boh tutto questo mi sembra abbastanza forviante, è una gara pur sempre di bellezza, di bellezza in un mondo in cui tutto è mercificato, la gara di bellezza è anche una mercificazione del corpo, a meno che vogliamo decidere appunto che è una gara di bellezza interiore, allora cambiamo la gara di bellezza, o una gara di bellezza interiore e bellezza esteriore, come nel mondo greco, c'è una gara in cui devi essere bello dentro e bello fuori, ma alla fine una gara di bellezza prevale chiaramente la fisicità, dunque basta chiedere sempre agli sportivi di essere modelli di etico morale, modelli esemplari, però devono rispettare le regole e sono rispetti, deve essere sanzionato, vale in tutti i settori della vita, vale chiaramente anche per lo sport e Fagioli ha pagato, ha pagato, sta sanzionato, ha fatto anche un percorso, sta facendo un percorso psicologico, è seguito, si è sempre allenato e ha dunque anche ammesso la sua debolezza. Seconda questione, che è figlia della prima, ma allora non devi essere un modello etico appunto morale, devi però rispettare le regole, se non le rispetti paghi le conseguenze, ma quando le hai pagate ritorni ad essere un cittadino, cittadino giocatore in questo caso che gode di diritti e di doveri, doveri e diritti, oppure lettera scarlatta se è marchiato per sempre. Io trovo questo aspetto veramente, veramente pesante, lo trovo bigotto, lo trovo moralista e lo trovo tendenzialmente poi pronto avanti da persone che nella loro vita privata, chissà quante ombre hanno o banalmente quante non mancanze hanno, perché tutti noi esseri umani siamo mancanti, però chiediamo agli altri, ecco, la punizione eterna, ha scontato la sua pena, è stato squalificato, per mesi e mesi non ha giocato, può ritornare, può riaccedere al mondo del football, può ritornare a un essere normale, normale, cioè si è sempre tutti normale, intendiamoci, ma normale nel godimento dei diritti e dei doveri, perché se c'è una sanzione tu per un certo periodo non godi di alcune libertà, sei sanzionato a scuola, sei sospeso, non godrai appunto dell'accesso a scuola, sei stato sanzionato, no, perché sei stato squalificato, cartellino rosso in uno sport, magari salto in un aperto due, sei stato squalificato per scommessa, alla fine rientrerai. Quest'idea di scontare la pena per sempre, di essere marchiato, giudicato, è brutto, è brutto, è un aspetto veramente brutto, ma non è cosa di essere buoni, ridiamo dell'opportunità, finita la pena si rientra, però c'è anche un'idea di essere umano dietro, c'è anche un'idea pedagogica e l'idea è che proprio dopo aver sbagliato tu ritorni e puoi riprovare nella vita, perché altrimenti a cosa servono le sanzioni, le punizioni? Le leggi diceva Platone che servono per educare, no? E quando tu sbagli sei sanzionato, ma anche la sanzione deve essere poi figlia dell'educazione, le grandi lezioni dell'illuminismo, c'è la sanzione deve essere figlia poi di un percorso rieducativo per poi riprovare, per riessere pienamente inserito dentro una comunità, dentro una società politica, invece no, hai sbagliato, è il tuo errore, devi pagarlo per sempre, mettiamo sempre queste lettere scarlatte, marchiamo a vita e questo è un atteggiamento di astro, di odio, spesso di violenza, di rancore, che sta rendendo più brutta e cattiva la nostra società, perché te lo è sempre stato, l'essere umano non è buono, l'essere umano tendenzialmente non è angelico, però si tratta di essere angeli, di essere buoni, si tratta di avere una visione pedagogica, di avere una visione di società civile in cui dopo un errore riprendi a fare la vita di prima, hai delle opportunità, hai le stesse opportunità di tutti gli altri, non si sanziona per sempre e non si giudica per sempre una persona sbagliata, hai fatto un errore, sei quello per tutta la vita, invece spesso anche a scuola hai fatto un errore e tu sei quell'errore per sempre, hai preso un brutto voto, sei un brutto voto per sempre, hai commesso uno sbaglio in un'uscita scolastica, in un rapporto con un professore, allora tu sei marchiato a vita per quello, no, una società civile va oltre le tre scarlatte, anzi non deve avere marchi, ma deve, una volta sanzionata, scusate una pena, una volta subito una sanzione, deve immaginarsi, non nuovamente in grado di costruire delle relazioni umane, dunque, relazioni umane, sociali, politiche, sportive, lavorative, dunque ben venga a fagioli, se poi è meritevole di stare nazionale, lo starà e lo giudicherà Spalletti che è lì predisposto per fare questo, se non sarà meritevole tornerà ad allenarsi con la sua scuola di club, dove sarà titolare o non titolare in base al suo merito o anche in base al fatto che sia più o meno simpatico che deciderà l'allenatore, ma smettiamo di giudicare una persona per sempre, basta questi marchi totalizzanti perché non permettono una convivenza civile, non solo pacifica, ma anche una convivenza civile che ci permetta di crescere, in società si deve crescere, noi siamo prospettiva culturale, una cultura di crescita, una cultura che sa rielaborare gli errori, che si confronta con gli errori.